La questione dei nidi a Roma è fondamentale. I nidi pubblici costituiscono per noi un fiore all'occhiello e dobbiamo migliorarli e incrementarli. Soprattutto dobbiamo assicurare una presenza ottimale dei nidi in tutte le zone di Roma. I municipi sono molto estesi, Roma è una città estremamente vasta, dobbiamo in qualche modo creare una rete che riesca a coprire un po' tutte le realtà territoriali. Pur nella consapevolezza che è un servizio estremamente delicato, peraltro che risponde a una domanda flessibile, perché ovviamente dipende da un andamento demografico che può variare di anno in anno. Quindi dobbiamo cercare anche attraverso lo studio dei dati storici di riuscire a creare questa rete intelligente che riesca a soddisfare le esigenze delle famiglie al meglio. Giusto che, come è successo al nord, dei bambini che non pagano le rette, per esempio delle messe scolastiche, abbiano comunque il servizio? Nella sua Roma come ci si muoverà da questo punto di vista? Io credo che far scontare ai bambini una difficoltà economica delle famiglie sia quanto di più meschino si possa fare. Sicuramente le rette andranno riviste, probabilmente questa è una cosa però che faremo nel momento in cui vedremo i conti della gestione post-tronca. Però già all'epoca, quando eravamo all'opposizione, chiedevamo di aumentare la fascia di esenzione, che oggi mi sembra si attesti intorno ai 5-6 mila euro annui, quindi è abbastanza bassa. Vogliamo andare incontro alle esigenze delle famiglie romane, ma sicuramente non vogliamo far ricadere le difficoltà economiche sui bambini.